Arretramento Ferrovia, a un passo l'ufficialità della variante su Pesaro. Criminalità fra stazione Miralfiore, il centro-destra invoca azioni concrete. Battaglia politica sul pronto soccorso, giovedì doppia manifestazione. Nuovi eventi a Pesaro, arrivano Ulissefest e Next Gen Cup. In Baia Flaminia torna il campionato italiano di Duathlon. Buona serata. Buona serata amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio con l'informazione serale di Rossini News, telegiornale che in questa edizione di martedì 29 marzo apriamo tornando ad occuparci del avveniristico progetto dell'arretramento della ferrovia. Un'idea che il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, rilanciò due mesi fa e che ora sembra concretamente rientrare nei piani di finanziamento ministeriali. A poco più di due mesi dall'annuncio di Matteo Ricci agli stati generali di Midterm, l'ipotesi dell'arretramento della ferrovia a Pesaro si veste di ulteriore concretezza. È lo stesso filo diretto costruito fra Matteo Ricci e il ministro delle infrastrutture Giovannini a indurre il primo cittadino pesarese a sbilanciarsi sul fatto che il progetto dell'arretramento della ferrovia di Pesaro rientrerebbe fra le ripartizioni previste dallo stanziamento di 5 miliardi della legge di bilancio per il potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Bari. Nei giorni scorsi lo stesso ministro Giovannini ha incontrato i presidenti delle regioni coinvolte Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia e domani l'argomento sarà all'ordine del giorno di un incontro fra il comune e la stessa regione Marche. Serpeggia forte ottimismo verso l'ufficialità di un progetto che pare sempre più realizzabile. Un progetto di fattibilità che il comune di Pesaro presentò di concerto con RFI includendo anche Fano nella partita. L'idea è quella di sgomberare la tratta ferroviaria a ridosso del mare trasformando i binari pesaresi in passante verde. Contestualmente la ferrovia verrebbe fatta correre parallela al tratto autostradale riuscendo a implementare l'alta velocità anche nel tratto pesarese fin qui rallentato dalla serpentina che allo stato attuale si crea fra Pesaro e Gradara. In caso di realizzazione del progetto la stazione ferroviaria verrebbe collocata in una zona geograficamente ubicata fra Villa San Martino, Villa Fastigi e Strada dei Cacciatori. A giorni si attende l'ufficialità del progetto. E dalla ferrovia passiamo per così dire alla stazione nei cui dintorni si stanno vivendo problematiche di criminalità sempre più allarmanti. Ieri vi abbiamo raccontato della seconda rapina nell'arco di appena dieci giorni avvenuta nel sottopassaggio pedonale dei Cappuccini. La questura avrebbe già individuato i responsabili acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona. Si tratterebbe anche in questo caso di giovani nordafricani senza fissa dimora. Il ripetersi di questi episodi criminali ha portato intanto i consiglieri comunali di centrodestra a chiedere la convocazione d'urgenza della Commissione Comunale sulla Sicurezza e del Comitato d'Ordine con il Prefetto. Fratelli d'Italia ha anche organizzato un flash mob previsto giovedì alle 18 al sottopassaggio dei Cappuccini per chiedere azioni incisive contro il cosiddetto triangolo dello spaccio fra stazione Miralfiore e Monumento alla Resistenza. Altre manifestazioni in programma giovedì sono quelle che vedranno Partito Democratico e Movimento Io Apro entrare in un terreno di opposta battaglia politica davanti al pronto soccorso di Pesaro. Vediamo perché in questo servizio. Il Partito Democratico di Pesaro ha annunciato per giovedì mattina alle 11 una manifestazione davanti al pronto soccorso per ringraziare il dimissionario ex primario del reparto Umberto Gnudi nel suo ultimo giorno di lavoro a Marche Nord. Una manifestazione che contestualmente contesta e chiede spiegazioni all'amministrazione regionale circa la grave emorragia creatasi nei numeri del personale sanitario di un pronto soccorso che passerà dai 38 medici in carica al primo gennaio 2020 ai 17 che rimarranno in data primo maggio 2022. La notizia della mobilitazione PD innesca però un'immediata contromobilitazione avversa, quella del neonato movimento Io Apro al rinascimento di Vittorio Sgarbi e Umberto Carriera. Proprio Carriera, che figura come segretario nazionale del partito, annuncia che se il PD manifesterà giovedì il suo sostegno a Gnudi, troverà la contromanifestazione di Io Apro. Carriera fa infatti sapere come sia inaccettabile il pensiero del sindaco Ricci di premiare Gnudi con una benemerenza. Un Carriera che sottolinea come sia giusta la parabola discendente del dottore dopo le intollerabili parole di odio e discriminazione pronunciate lo scorso dicembre contro chi, secondo Carriera, rispettando la legge, ha scelto di non vaccinarsi. Tradotto, se il PD vorrà premiarlo, troverà Io Apro deciso a contestarlo davanti al pronto soccorso del San Salvatore. Il centro per l'autismo a Pesero si farà e convivrà senza essere ridimensionato con la centrale operativa territoriale nell'ex asilo di Via Vattielli. Ad assicurarlo, in Consiglio regionale è stato oggi l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e il consigliere Nicola Boiocchi rispondendo ai dubbi sulla incompatibilità delle due strutture in un'unica sede avanzate dall'interrogazione dei consiglieri Andrea Biancani e Micaela Vitri. Successivamente è previsto che il centro operativo territoriale venga collocato al San Benedetto una volta ultimato il recupero dell'ex complesso psichiatrico. E dalla politica sanitaria passiamo alle tematiche più prettamente legate alla salute. Parliamo infatti di una patologia come il mal di schiena e dei connessi fattori di rischio alla colonna vertebrale. Argomenti che saranno tema centrale di un importante convegno nazionale che si terrà all'Hotel Flaminio venerdì e sabato, un convegno che ci viene illustrato dal medico chinesiologo Luigi Magarò. La colonna vertebrale ai fattori di rischio è questo il titolo del convegno che lunedì aprile si terrà all'Hotel Baia Flaminia. Prevenzione è il concetto cardine da sviluppare in questa sede per quello che riguarda luoghi di lavoro e luoghi scolastici. Il convegno è organizzato dalla Fondazione Scoliosi Italia Onnus e dall'Ordine dei Medici della provincia di Pesero Urbino. La organizziamo in quanto la colonna vertebrale, questa struttura molto importante che dobbiamo difendere e che invece è poco conosciuta, infatti è la cenerentola della conoscenza. Vogliamo far sì che ci siano settori come la scuola e il mondo di lavoro, possono essere una conoscenza per attuare prevenzione ed evitare e limitare quei danni giornalmente a cui è sottoposta come la sedentarietà, la non conoscenza soprattutto della colonna, l'obesità che sono i fattori di rischio che possono portare mal di schiena e alterazioni metaboliche. La causa invalidante e più costosa nei paesi industriali d'Italia è questo mal di schiena che ha alti costi sociali, alti costi per la produzione, per mancanza di donate lavorative perse, quindi ha un costo anche sul sistema sanitario nazionale e con un'incidenza da 75-90%. Il mal di schiena che colpisce i giovani dalla scuola elementare, quindi in crescita il 12%, 12,7% meglio, scuola elementare, 44 scuola media, 60 scuola superiore e 80 all'università. Un altro fattore di rischio costante è la mancanza di screening perché è un grave fattore di rischio nell'età evolutiva che può causare trattamenti tardivi e quindi portare a interventi chirurgici o anche a problemi, meccanismi di compenso negativo in età evolutiva. La fondazione quindi ha proposto questo progetto di osservazione posturale fatta direttamente a scuola dagli insegnanti e che è un progetto che si inserisce bene nella iniziativa della scuola, la scuola promuove salute, quindi questo è previsto. Quindi inserire questa osservazione non significa sostituirsi al medico, ma al fatto che anzi l'insegnante può mandare al medico in tempo reale, giusto, in tempo, quindi quando ha un dubbio lo manda dal medico. Ma perché la scuola, perché è la sele elettiva di ogni intervento educativo ed è l'unica che raggiunge in modo capellare la popolazione in crescita e poi c'è il vantaggio che intervenendo sulla prevenzione c'è il risparmio delle spese sanitarie. Non solo a scuola ma anche nell'azienda si può attuare questo programma di prevenzione facendo formazione all'interno della fabbrica, insegnando all'operatore, all'impiegato come usare la sede in modo dinamico, quindi una postura dinamica e cosciente che eviterà di accusare questo disturbo che porta a questi grossi costi aziendali. Quindi il convegno vuole essere un'analisi dello stato dell'arte, una revisione critica ma diciamo propositiva e costruttiva e fare vedere le iniziative già in atto che ci sono in Italia e anche da noi nella provincia e come diffonderlo sul territorio. Dal 5 aprile al distretto sanitario di Pesaro in corso 11 febbraio aprirà il nuovo ambulatorio delle cure pagliative che sarà attivo tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 attraverso l'equipe dell'ospice di Fossombrone diretta dal dottor Carlo Alberto Brunori. Si tratta di una importante novità per quel che riguarda le cure rivolte al fine vita oncologico e alle malattie neurodegenerative. L'assessore al rigore Andrea Nobili ha annunciato oggi che il comune di Pesaro ha chiuso il rendiconto del 2021 con un avanzo di bilancio di 7 milioni di euro. Risorse fa sapere Nobili che si annunciano preziose anche per affrontare le prossime criticità legate ai rincari dell'energia. Arriva un nuovo progetto di sicurezza stradale dal titolo Be Responsible. È il risultato di un accordo sottoscritto oggi da Comune di Pesaro, Unione Pian del Bruscolo, Prefettura, Questura, Università di Urbino e Croce Rossa che si avvarranno di un finanziamento ministeriale di 287 mila euro. Il progetto realizzerà una massiccia campagna di informazione e di prevenzione ai rischi del consumo di alcol e droga alla guida. Contestualmente da giugno ci sarà anche un potenziamento dei controlli su strada. La Regione Marche ha previsto oltre 2 milioni di euro per la difesa della costa e la manutenzione delle scogliere. Pesaro e Mondolfo sono fra gli otto comuni che hanno presentato progetti meritevoli di finanziamenti con contributi regionali che saranno di 350 mila euro per Pesaro e di 250 mila euro per Mondolfo. Ad un mese dalle finale di Coppa Italia di Basket, Pesaro e la Vitri Frigo Arena vedono assegnarsi anche l'edizione 2022 della Next Gen Cup. Si tratta di un grande evento sportivo che torna dopo un anno di stop per pandemia mettendo a confronto 16 formazioni di basket under 19 promuovendo i vivai italiani dei club di serie A. Appuntamento a Pesaro dal 5 al 7 maggio. Ed è stata invece fissata dal 15 al 17 luglio la quinta edizione di Ulisse Fest, la festa del viaggio. L'evento organizzato dall'Only Planet, la più famosa guida di viaggi al mondo, era già stato preannunciato nella scorsa edizione degli Stati Generali e per la prima volta si sarà a Pesaro con tre giorni di convegni, spettacoli, concerti, film e workshop all'insegna del tema del viaggio alla presenza di giornalisti, scrittori, artisti e blogger che animeranno il centro storico e il lungomare di Pesaro. Ed è tornato a Pesaro il produttore di Hollywood, Arman Julian, ospite oggi del presidente della provincia Giuseppe Paolini. Julian sta realizzando un film dedicato alla famiglia Sarano scampata all'orrore dell'olocausto tratto dal libro Siamo qui, siamo vivi, scritto dal giornalista pesarese Roberto Mazzoni. Il produttore ha confermato che le riprese partiranno a inizio 2023, ma la novità emersa oggi è l'annuncio di un documentario prodotto dallo stesso Julian e diretto da Daniele Ceccarini che anticiperà il film. Progetto che è già a buon punto perché le riprese del documentario sono già state girate al Beato Sante di Bombaroccio, a Monaco di Baviera e termineranno a Gerusalemme nella prima settimana di aprile. Non solo, proprio il 5 aprile i discendenti della famiglia Sarano presenteranno il libro alla base del documentario alla presenza del Presidente di Israele Isaac Herzog. E poco fa ci siamo occupati di nuovi eventi a Pesaro, ce ne sono invece altri che vengono confermati per il secondo anno, come i campionati italiani di Duotlon che tornano questa domenica ad affollare Baia Flaminia. Siamo alla seconda edizione perché l'anno scorso si sono già svolti con notevole successo e una grossa partecipazione di atleti. La gara si svolge principalmente in località Baia Flaminia dove ha il suo cuore, la sua zona cambio degli atleti e da dove poi si alterneranno le tre frazioni che compongono la gara. Si inizia con la prima frazione podistica di 10 km su un percorso di 5 km da ripetere due volte. Il percorso si snoda tra Lungofoglia e la strada dei due porti. Si ripete due volte la prima frazione per poi continuare con la frazione ciclistica. La frazione ciclistica si sviluppa su un percorso di 40 km che si snoda tra la strada panoramica del Monte San Bartolo e un tratto di strada adriatica, strada statale. Quindi si ritorna a Baia Flaminia dove c'è la classica zona cambio e si riparte per la terza frazione conclusiva con un solo giro da 5 km di corsa di nuovo. Il tutto inizia alle 8 e mezza con la partenza della prima batteria femminile e poi dovrebbe concludersi entro mezzogiorno al massimo per tutta la manifestazione intera. La viabilità è stata controllata chiaramente per garantire la sicurezza agli atleti lunghi percorsi e supportata da una serie di percorsi alternativi che sono consultabili sul nostro sito internet dove poi ci sono tutte le indicazioni con gli orari, le chiusure e gli stessi percorsi alternativi. Qual è l'età media dei partecipanti? Una domanda molto interessante perché oltre ad assegnare il titolo di campione italiano assoluto verranno assegnati anche i titoli di campione italiana Age Group nel senso che ci saranno delle apposite classifiche per categorie di età che vanno di 5 anni in 5 anni a partire dai ragazzi che hanno 20 anni e quindi fino all'anno scorso avevamo un ultraottantenne che ha portato a termine la sua gara con un festeggiamento poi da parte di tutti perché meritava. È una manifestazione che ospitiamo con orgoglio, siamo a città della bicicletta, siamo una città che vuole correre quindi un binomio perfetto che si racchiude all'interno del duathlon. Aspettiamo tanti sportivi nella nostra città, è una competizione che si svolgerà in una dei luoghi più belli della nostra città, Baia Flaminia, è il Parco San Bartolo. Uniamo sport e turismo, un binomio perfetto che negli anni abbiamo sempre più promosso. Ed ora un'altra notizia di sport e in particolare di motori. Parliamo infatti di Matteo Morri, giovane pilota del neonato team MR Racing che parteciperà al campionato italiano di velocità Moto3 al Via questo weekend anche con una media partnership con Rossini TV. Il nostro logo scende infatti in pista con questa moto come si spiega il servizio di Paolo Pagnini alla presentazione del team avvenuta a Morciano. Oggi si presenta qui a Morciano il team MR Racing, è un team di Moto3 che partecipa al campionato italiano e il momento è importante perché da oggi si stringe anche un accordo di partenariato, un accordo di media partner tra Rossini TV e il team e questo significa che noi seguiremo le vicende di Matteo Morri, il pilota del team e vi faremo soprattutto vedere la moto che seguiremo per tutto il campionato italiano Moto3. Non si parla di aspettativa, si parla di obiettivi. L'obiettivo mio è ovviamente quello di vincere, vista tutta la preparazione mia che ho fatto, tutta la moto perfetta e quindi l'obiettivo è arrivare davanti, poi si vedrà le possibilità che abbiamo. Secondo me ci sono molti piloti e molti già in un certo senso affermati perché comunque correvano già nella Moto3 gli anni scorsi e secondo me ci sarà anche qualche rookie molto forte. Il bello di questa scelta è nato da un'esigenza di arrivare sempre più in alto. Io ho già collaborato con altri team e già nel 2019 abbiamo vinto il campionato italiano, quindi questo già è un buon feedback per noi. Da lì abbiamo scelto delle persone professionali e nello stesso tempo che diano a Matteo e a noi quello che magari per un team giovane può essere già una storicità e una forza e una maturazione per andare avanti e diciamo così non aiutare i concorrenti. Quello che ha fatto fare questa scelta è stata che nel percorso di due anni addietro con Massimo e con Matteo si è creato un feeling esagerato sia con le famiglie perché ci vogliono anche le persone corrette, le persone giuste, le famiglie giuste e anche i ragazzi giusti che devono crescere. Abbiamo sempre creduto che per arrivare a certi obiettivi bisogna essere coscienti che si può arrivare a certi obiettivi perché se no sarebbe tutto tempo perso. Matteo è già due anni che guida questa moto, fra l'altro l'anno scorso ha fatto già due anni di campionato italiano, ha fatto un anno di campionato moto estate che fra l'altro ha vinto facendo anche segnare dei record su vari circuiti, quindi dovrebbe essere avvezzo a questo tipo di motore. Poi le corse sono sempre difficili da interpretare però diciamo siamo fiduciosi. Stiamo parlando di un campionato, un campionato italiano che si disputa su sei weekend, ogni weekend, ogni fine settimana sono due le gare e non sono due match, sono proprio due vere e proprie gare, per cui sono dodici gare e un campionato già con un bel numero di competizioni. È un campionato fra l'altro a livelli molto alti, l'anno scorso si è dimostrato dal fatto che molte volte si è avviaggiato, si è corso in diversi circuiti a 4-5 decimi dai tempi del mondiale, quindi parliamo di veramente poco. Si è dimostrato il fatto che ci sono piloti che sono passati direttamente dal campionato italiano al campionato mondiale. E quella che avete appena visto su Matteo Mori e il team MR Racing è solo una piccola anticipazione dello speciale che Rossini TV trasmetterà per approfondire questo team e questo campionato domani, mercoledì 30 marzo alle 21.20. Si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale, vi diamo anche qualche altro appuntamento a cominciare dalla prima serata di oggi, di martedì, con alle 21.20 la proiezione della festa del trentesimo anniversario di attività di vesti il lavoro, appuntamento alle 21.20. E poi un altro grande appuntamento sportivo che torna su Rossini TV, quello col calcio a 5. A distanza di pochi giorni ci sarà la remake della finale di Coppa Italia in campionato sabato 2 aprile, con l'Ital Service che sarà in trasferta in casa dell'Olympus Roma il sabato 2 aprile alle 18, partita che potrete seguire in diretta su Rossini TV. Così come è in diretta l'appuntamento con le sante messe trasmesse da Rossini TV ogni domenica mattina, in questo caso il 3 aprile alle 11.15, le nostre telecamere si accenderanno in diretta per trasmettervi la santa messa dalla parrocchia di San Pietro in Calibano a Villa Fastigi. E questi sono dunque gli appuntamenti, ora ci sono le previsioni del tempo e a me non resta altro che augurarvi un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.